Il futuro del mondo passa da qui, di Andrea De Aglio, è un singolare paesaggio con figure nascoste, colte da una camera osservativa a volte compiaciuta, ma complessivamente penetrante, in grado di gettare uno sguardo su un microcosmo che interroga il nostro modello di sviluppo. Siamo a pochi chilometri da Torino, dove si svolgono le stagioni e le vite, i tentativi di recuperare coltivazioni, spazi, ma anche luoghi dove si rifugia a chi non ha altro posto dove abitare. E qui io devo proprio dire con molta sincerità che il tema era bellissimo, straordinario, ma in realtà lo aveva già pensato Gianfranco Rosi in un documentario che si chiama Bilodi si level, cioè sotto il livello del mare e siamo agli marginati, a quelli che vivono al di fuori della società per loro volontà o per condanna della volontà della società, per cui è un tema talmente importante che aveva bisogno anche in questo caso, secondo me, di essere particolarmente approfondito. Però ci sono momenti di tenerezza, di avvicinamento a questi sfortunati che, devo dire, sono come la primizia del documentario, qualcosa che lo rende in fin dei conti visibile e che ci fa pensare che approfonditamente avrebbe potuto essere qualcosa di veramente molto, molto importante. È un film di osservazione, di sguardi su volti paesaggio e su paesaggi che diventano volto. È un film di momenti epifanici, il bagno al fiume degli Zingari, ad esempio, di riflessioni urbanistiche legate al visibile, su spazi suburbani, posturbani, rururbani. È un film a narrazione debole e poesia forte, lontano da sociologismi di maniera e intriso di sospensioni magiche. Nessun lirismo, nessuno svolazzo, nessuna facile musichetta d'accompagnamento.